Nord, si è previsto un intervento, per il centro abbiamo fatto un'ipotesi di Piazza Manzoni, Ecoso Europa e Via Enaudi, c'è la realizzazione della nuova rotatoria prevista a breve, quella che adesso è sperimentale, e quindi in quei frangenti è possibile anche inserire un intervento anche sulla scifrabilità. Oltretutto, pensiamo che su Europa potrebbe essere una buona via di accesso per i ciclisti, e poi non sono ciclisti, verso il centro, e anche la Via Enaudi, oltretutto ha ridosso una serie di paccheggi, quindi senza necessità di, oltretutto ha ricevuto i vetri di sosta su Androilati, quindi è possibile studiare questo intervento. Altro intervento che teniamo interessante è quello sul Viale della Repubblica, che è un viale a doppia carreggiata separata, anche un viale pericoloso, diciamo, perché ha una larghezza notevole, e già per sé non ha, c'è un divieto di sosta, perché verso i, verso i, verso gli isolati più abitati c'è un controviale dove normalmente viene la sosta, dall'altra parte attualmente ci sono i supermercati, ma non c'è una grande esigenza di sosta, quindi qui è possibile realizzare questo percorso, che poi porterebbe fino alla ragioneria, perché un pensiero è stato fatto anche sulla via Cascina dei Poveri, che già adesso è chiuso al traffico, cioè nel determinato orario, e poi si potrebbe pensare anche al territorio modificato dei sensi 11. Poi...